Sì, c'ho io, spesso, ma... E' un bidoncino qua, frontale e cosa? Sì, sì, ne sa che stai a rotto. La famiglia si dà nel cuore. No, no, no. No, guarda. C'è l'ho io, vale che va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non si, così, Alfano e Gagliardi rimangono e ci vai tu con loro. non aspetto ad andare più no no tu non ti puoi che sei qui con loro hai capito da dove? c'è da 50 mattina c'è ma la vede c'ha stata bianca non c'ha stata bianca bianca marone o bianca per te non cazzo è abituato molto molto Andiamo da sotto, prendetela Qualche chilometro, le prime ci sono due o tre stradine prendiate magari la seconda o la terza per non fare la prima scendete là, avvicinatevi al fiume e poi fate scendere A scendere, a scendere Vediamo che squadra è quella? La due, la tre per cento A quanto è circa parentesi? Caposquadra per Fono Caposquadra per Fono Si lei o no? Semplicemente Un attimo Un attimo Oh, bravo Rao Rao Grazie a tutti Grazie a tutti